Sto pensando di aprire un altro canale che si chiama Ask Real G vuol dire chiedi Real G quindi dove risponderò ai vostri domande di quelle che hanno difficoltà nella vita, parliamo di tutto una cosa seria comunque però dopo vi farò sapere quindi è un canale molto interessante sto pensando di quel progetto lì quindi anche riguardo a gente che è in difficoltà ci sono anche gente che vuole uccidersi tutti questi bulli tutto quello che succede su internet alcuni ragazzi non sanno con che parlare quindi vorrei aprire questo canale così possono parlare con me io posso dargli consiglio posso anche rispondere dire cosa c'è da fare modo di superare è molto interessante questo canale comunque ne parleremo in un altro video farò un video per quello però per adesso concentriamoci su canzone proprio napoletana vera ok ok questo è da Enzo Dong sentiamo questa se siete nuovi sapete già cosa fare senza perdere tempo buttiamoci dentro dove ognuno nasce giudicato baby lo sai come sono fatto baby oh oh yeah yeah io voglio una napoletana questa è proprio napoletana vera ok sentiamolo sentiamolo questa napoletana vera e vediamo com'è ne ho reagito Enzo Dong ne ho reagito quante ne ho reagito mi sembra quattro o cinque ce n'è delle tracce quante ci sono qui adesso guardiamo ce n'è quindici però abbiamo fatto quattro o cinque lasciate un commento ditemi quello che faremo prossimo perché qua è lunga quindi quando fate la vostra richiesta vatemelo in Instagram iscrivetevi seguitemi su Instagram e poi fate la vostra richiesta quindi quando mi seguite fate la vostra richiesta mi ne accorgo quindi mi ne accorgo se mi stavi seguendo quello che mi hanno fatto la richiesta o no perciò se non mi segui e fai la richiesta stai perdendo tempo quindi quando fai la richiesta io vedo se mi stai seguendo o no perciò è molto semplice più criminale di me insieme per fottere il suo sistema la mando a casa fra per uccidere te io voglio una napoletana vera la tipa più criminale di me anche Enzo Dong Enzo Dong è proprio si è uscita con fu-foss noi lo chiamiamo fu-foss cioè con la forza piena forza proprio ha spaccato con queste sue tracce anche che ne pensate vorrei che continuate movimentazione in questo canale dovete fare una movimentazione dite i vostri pensieri non stare lì come un robot che aspetta che uso telecomando bra oh my god io mi sto badendo anche in questa questa giolia qui come si chiama mi sono sbagliato cos'è Enzo Dong ormai ho preso cioè mi ha preso mano il nome di Giulia mi ha preso proprio mi sfuggere mano mi sfuggia ormai tutto è entrato in testa quindi ogni volta mi scappa Giulia mi scappa Giulia invece volevo dire Enzo Dong però quasi quasi faremo ASMR 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 chiamatela con me bolete ho già iniziato a saltare eh che cavolo ho già iniziato a saltare io proverò a reagire ancora ancora un po' di tracce di Enzo Dong Pito quindi state voi a decidere quello che reagiremo prossimo lasciatelo su commenti lasciatelo su Instagram e seguitemi quindi di solito prendete di più su Instagram e poi ho una bella idea però ne parliamo dopo sto pensando di aprire un altro canale che si chiama Ask Real G vuol dire chiedi Real G quindi dove risponderò ai vostri domande di quelle che erano in difficoltà nella vita parliamo di tutto una cosa seria comunque però dopo vi farò sapere quindi è un canale molto interessante sto pensando di quel progetto lì quindi anche riguardo a gente che è in difficoltà ci sono anche la gente che vuole uccidersi tutti questi bulli tutto questo quello che succede su internet alcuni ragazzi non sanno con che parlare quindi vorrei aprire questo canale così possono parlare con me io posso dargli consigli posso anche rispondere dire cosa c'è da fare cioè modo di superare è molto interessante questo canale comunque ne parleremo in un altro video farò un video per quello però per adesso concentriamoci su canzone ti faccio fare un giro alle prime donne piace stare al centro della scena ti uccido quando la tua faccia sucro una canera la testa di cavallo nel letto ormai non si importa vedi che c'è c'è la mia donna fuori la tua porta baby ok questo è un zodon qui io non ho altro da aggiungere come ho detto prima a me quello che ho reagito fino ad adesso 4-5 mi è piaciuto il resto non lo so dovete dimmelo voi consigliatemi cosa fare il prossimo è molto semplice così andiamo mi fido soltanto di una napoletana vera un assassino nata ti uccide la sera se la inviti a bere credi che lei se la beva fra l'hai conquistata ma invece poi ti avvelerà io voglio una napoletana vera queste beati di questa traccia qui sono tutti pazzeschi cioè non so chi è il produttore qui ha fatto un buon buon proprio buon lavoro qui una tipa più criminale di me insieme per fottere il suo sistema la vado a casa per uccidere te e io voglio una napoletana vera una tipa più criminale di me quindi vuole fottere il sistema ok non so se sentite non lo so se sentite quello che sento io porca miseria non lo so se lo sentite eh questa mi sta entrando proprio nel cervello mi entrano è una madonna ok questa napoletana vera da Enzo Dong bella questa questa spaca questa spaca lasciate un commento dite il vostro parere lasciatevi in culo scrive se vi è piaciuto questa reaction o no se vi è piaciuto le canzoni o no è molto semplice invece di stare lì a insultare che non avete una vita quello che insultano delle persone che non hanno una vita ragazzini vi fate la pena però non è colpo vostro è colpo di vostro genitore che mi viene da prenderli che sia il vostro genitore il padre che è madre mi viene da prendere a aprire il culo porca troia si è la verità quando vedi cosa i bambini scrivono qui mi viene da prendere i vostri genitori non voi i vostri genitori mi viene da prenderli a prendere così a aprire il culo di amore come una campana che sia vostro padre che sia vostra madre io lo prendo che sia uomo una donna lo prendo lo apre il culo come una capana smettete di scrivere il cassante bambini porca miseria imparate educazione imparate educazione wow ci vuole gran pazienza ci vuole un gran pazienza su youtube oh my god allora io vi saluto non vi dimenticate di scrivervi se non vi scrivete io vi vengo a cercare e non finisce bene non è una minaccia io lo faccio sul serio io troverai il vostro ingresso io vi vengo a cercare porta a porta se non vi scrivete subito se non scrivete subito e mettete mi piace condividete io vi vengo a cercare muo sono incazzato bianco mi piace